Benvenuti ragazzi a questo nuovo mio video, come potete vedere vi sto preparando qualcosa di diverso dal solito, questo gioco si chiama Best Quest e spero vi possa piacere passando subito con la prima parte della storia Fatemi sapere nei commenti se vorreste degli episodi su questo gioco, che io sono disposto a portarveli se vi piace E andiamo subito, allora per quanto ne so io qua c'è un boss, una specie di gorilla, uomo delle nevi, non so come chiamarlo Fatemi sapere se volete anche se io leggo questo di quelli personaggi, fatemelo sapere Io vi porto questo primo episodio e voi mi date il vostro parere Andiamo Ho già fatto vita Ma comunque penso che l'obiettivo sia trovare i boss Buongiorno ragazzi ma che me lo sono chiamato Non farà succedere che questa è una battaglia tutorial Allora Vai, vado, tutto qua No, così non ho preso Allora, così mi difendo Bene Tutto qua Così a lui mi sta insegnando come evitare i suoi attacchi Così lo attacchiamo a noi E adesso Gli faccio un bel critico Ok sono pronto Via Ha indietreggiato Come devo fare qua? Ah no Ok ho capito Se l'è data a gambe ragazzi Se l'è data a gambe Va bene Allora Quindi questa è la missione Aspettate un attimo Fatemi vedere Allora Raccogli l'erba Raccogli l'erba Medica per Ok Dobbiamo raccogliere dell'erba Allora Intanto vediamo anche se ci sono Tesori nazisti L'ho giocato una volta questo gioco ragazzi Vi assicuro è bellissimo Aspettate un attimo Eccolo l'altra erbetta qui Presa Quanto ne devo prendere? Sette Ok Andiamo Cos'è Ma quello è un lupo No dai Non mi dire che devo combattere contro i lupi Perché mi rifiuto Sì Questa è un lupo Grazie Grazie No dai Non mi dite che devo combattere contro i lupi Perché io mi rifiuto di combattere contro i lupi Mi rifiuto No dai No dai Mi ha preso Dai Perché devo combattere contro i lupi Mi dispiace Uffa Dai ma tutto contro i lupi No dai Tutto ma contro i lupi No Ecco Vai Mi dispiace cucciolo Dispiace Non posso proprio combattere contro i lupi Ma Devo farlo in questo gioco Ma che razza di animali sono Vabbè Lasciamo questo discorso a parte Allora Qui non si può ancora andare Quindi dobbiamo cercare l'erba medica Qui nella zona Andiamo Allora Il coniglio Raga 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 Penso di dover andare per di qua Facciamo così Faccio un attimo un piccolo taglietto ragazzi E mentre girottavo Ho trovato questo Cosa a caso Andiamo Ecco qua Altra erba Ecco ho capito Non è erba medica È erba artica Ma sono io che ho letto male Scusate Allora 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 Faccio un altro taglio Faccio un altro taglio raga Qua Quando Quando iniziate anche voi a giocarci Se cercate anche voi Questa erbetta Che sarà proprio la vostra prima missione E qui E qui E qui E qui Nell'intorno Nell'accampamento Ecco un altro Ancora Ok Ne manca solo una Devo faccio un altro taglio Ancora Giusto per dire Allora Continuiamo ad andare Intanto ho trovato altri Altri Arbettanti Dunque Manca solo Perfetto Missione Completata Va bene Allora Ragazzi Io direi Che per questo video È tutto Fatemi sapere Se volete un continuo Su questo Gioco Io ve lo porto E Vabbè Fatemi Fatemi anche sapere Se Volete che leggo Quello che dicono I personaggi Io direi Che per questo video È tutto Ragazzi Vi do appuntamento Al prossimo video Bella ragazzi